Buon appetito! Sono qui perché lavoro per una ONG e amo il bensiere che faccio perché è una lotta per i diritti e in questo momento i diritti vanno sostenuti. Siamo qui tutti insieme per difendere le nostre Costituzioni e i nostri diretti e le diretti delle donne per decidire freely sui corpo. Oggi siamo qua a Milano per manifestare per i diritti dei migranti, delle donne, degli omosessuali e per tutte quelle persone che oggi si vedono discriminate dalle politiche di questo governo. Sono afro-italiano e sono orgoglioso di essere qui. Grazie per la visione! Grazie per la visione!